Il Salama Arcianese si fa trovare pronto l'appuntamento con i tre punti, rifilando un secco 6-1 al Giovinazzo. Terza vittoria consecutiva nel giorno di ritorno e secondo posto in classifica legittimato. Vittoria che porta la firma di Schurz, Attanasio e Dobrado, tutti autori di una doppietta a testa. Vittoria che cancella il capo della Coppa Italia e fa continuare a rincorrere la capolista Policoro. In avvio è Schurz a sbloccare dopo 20 secondi, Attanasio gli serve un pallone d'oro e il brasiliano non sbaglia. Il pivò sfiora il raddoppio dopo 4 minuti quando impegna Di Capua in corner con una staffilata da posizione centrale. Poi inizia il duello tra Ruoccolano e l'estremo difensore pugliese. Il numero 17 in 60 secondi si presenta tre volte in area di rigore ma deve fare i conti con i riflessi di Di Capua. Non può nulla invece al settimo quando Murante si incarta a pochi passi dalla porta e Attanasio fa 2-0. Gara in discesa per la vicecapolista che di lì a qualche minuto troverà anche il Tris. Primo una sgroppata di De Palma con tiro a fil di palo, quindi il 3-0 firmato da Doprado su perfetto assist di Russo. Il tempo si chiude con l'ennesima occasione per Ruoccolano che però alza troppo la mira. Nella ripresa dopo 5 minuti Schurz per Doprado che a porta sguarnita a rotonda. Il giovinazzo si lamenta per la condensa che si accumula ai bordi del campo e subisce ancora da Schurz e Attanasio le reti che valgono il 6-0. Tanto un fermo impegna a terra Forgiarini che non può nulla sulla conclusione di Murante che vale il gol della bandiera. Nel finale palo di Montelli e applausi per una squadra che vince senza girio fiorito e campanile. Sabato alla sosta si riprende il 15 febbraio da Venafro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.